Si accende il falò ragazzi e benvenuti in questa prima parte di Outertale Che pal è probabilmente molestatore, limitato, si lo vedo C'è un no way rise e dice best viewers on bla bla bla, non mi interessa Non c'è modo di cancellarlo Vabbè, comunque io lo vedo Allora, partiamo subito, il gioco dice a chi possa interessare Ok, forse così è un po' troppo vero Questo gioco contiene flashing images, insomma se siete fotosensibili, epilettici o cose del genere Fate attenzione perché potrebbe non fare per voi questo giochino O meglio, non è vero, non dice questo, scusate Dice che queste impostazioni possono essere disabilitate volendo da un menu apposito Ok Che è successo? Ok Oddio, aspetta aspetta, l'ho già rotto, non ho visto niente Con calmas Ferro palmas No Devi catturare questo giochino Cosa sta servendo? Ma perché era? Cominciava tutto così bene No Oh e dai Ok Allora ci riprovo Proprietà Ok Vai Allora Tanto tempo fa Due specie Governavano sul sistema solare Gli umani e i mostri Col passare del tempo Una guerra è scoppiata tra le due Ok Dopo che il pianeta madre dei mostri è stato distrutto Gli umani hanno dichiarato vittoria I mostri rimanenti sono stati banditi su un avamposto abbandonato, dimenticato Un potente campo di forza è stato eretto I mostri e bici sono stati sigillati dentro Vai anche più piano gioco Molti anni dopo Settore ebott 2510 Ci sono voci che parlano di un posto dal cui le navi spaziali non fanno mai ritorno Bene Facciamo così Astrometa sei tu Esatto Oddio questo sembra per quasi Deltarune Outer Tail Ok Renni Z o Enter Z Allora F4 fullscreen Ah ok Basta fare così Più semplice del previsto Ma Ok Scusate per i tecnici ma non dipendono da me Allora Allora Come si imposta il gamepad? Utilizza un input sul tuo gamepad per assegnarlo a un'azione in game Utilizza l'input ancora per confermarlo O utilizza altri input per assegnarli Premi ESC per Ah ok Shift Cos'è l'inventario giusto? Che modo strano Menu Move up Ok Ah questo Left Che modo strano di Chiedermi gli input Spero non sia così tutte le volte Ok Che Ok Ok se provo a cambiare linguaggio mi dà il logo di Outer Tail e basta Che strano Musica al 50% Franci come si sente l'audio? Mi sente bene spero Però è ben bilanciato rispetto alla mia voce spero Fancy graphics Enable disabled Smash mini normal Reduce normal Dead zone Non so cosa voglio dire Open mod folder Puoi mettere le mod in Outer Tail? Minchia Ok Outer Tail versione 5.04 2024 Spacy 4, 3, 2 O Z Comunque per quelli che non lo sapessero Outer Tail è un AU di Undertale Come abbiamo potuto vedere In cui la premessa è molto semplice Undertale ma nello spazio Quindi qua a quanto pare secondo l'interpretazione del project Space Time Che credo sia anche il nome del team di sviluppo Oltre che il sottotitolo del gioco diciamo Non c'è stata una guerra tra le razze umani e mostri nello stesso pianeta Bensì tra due pianeti diversi Il pianeta dei mostri è stato distrutto Sono stati sigillati in un vecchio avamposto E ora noi andiamo a fargli visita Dai un nome all'umano Stranded Come si traduce? No fragato Esatto Ciao man Allora vediamo se hanno fatto il lavoro come si deve Eh non va bene però questa cosa Dovevate mettere il segretinos Cioè come funziona E se metto Sans Sans Dove la n Eccola qua Sanis Nope Go back Un po' di story time Un po' di story time da raccontare Sì pure io C'avrei un sacco di roba in teoria Vabbè facciamo le cose semplici Katema Eccoci qua Ok Fatto Partiamo Per questa avventura Spaziale Eh Carla lo so Però ho sbagliato Io non dovevo chiamarla Carla in Undertale Dovevo chiamare il personaggio Katema in realtà Uh ok E quindi qua inizio l'avventura Ups Ok Che strano non poter correre come in Undertale Liero Questo che serve a nulla Ok Sto provando i pulsanti Rischia un vigile urbano Sono tutti vestiti così Credo Allora Katema Lobo 0 HP 20 Attacco Difesa Esperienza Next Weapon Rusty Spanner Armor Worn Space Suit Quindi abbiamo l'armatura Eh Usurata Come Cioè la tuta spaziale usurata Come armatura E Uno Spanner È una chiave inglese Arruginita Ok Questo è il nostro Inventario Ah Ah cazzo Vabbè ho sbagliato Conf Sì No Vabbè Non mi importa Chissà se me lo chiederà ogni volta Ok Giustamente siamo nello spazio Non ci può essere vegetazione Quindi Flowey È diventata È diventato una stella Mi fa ridere un sacco Sta cosa Non so perché Però mi piace Your best friend Sì esatto Sto ridendo Fio di quanto dovresti Sembra un mezzo shit post Ma in realtà non lo è È your best friend Ma tipo Ninna nanna Che ci sta visto che ha una stella Infatti mi ricordava un sacco Cioè lo sprite mi ricorda un sacco Quelle stelline che avevo in camera da piccino Che si illuminavano al buio Stella stellina Sì Ciao Sono Twinkly Twinkly la stellina Che cosa ti porta in questo von posto Amico viaggiatore Ah tu ti sei perso Non è così Bene È un bene allora che io sia qua per te Non sono stato nella migliore delle mie forme ultimamente Però Nella migliore delle mie forme ultimamente Però Qualcuno ti deve comunque insegnare come funzionano le cose qua giù Ok Hanno dato anche più espressioni Beh immagino che dovrà occuparsene il vecchio me Cominciamo Che dici? Lo vedi quel cuore? Quella è la tua anima? La culminazione della tua stessa essenza Il culmine della tua stessa essenza La tua anima è una parte importante di te E ha bisogno di love per sostenersi Ehm ok Qua fuori il love viene condiviso attraverso Beh Sì sai no? Piccoli Bianchi frammenti di amicizia Di felicità Per farti cominciare Fin da subito Sulla strada corretta Condividerò con te un po' di love Prendine più che puoi Ops Mi sa che li hai mancati Va bene se faccio il bravo dai Ma va bene Ecco Abbine degli altri Eccoci lì In questo mondo O uccidi O sei ucciso In mania Un'anima come la tua Che Ha una varia e atterra Di fronte alla mia porta di casa Pensavi davvero Che mi sarei lasciato sfuggire Un'opportunità del genere Holy shit No Muore Sono circondato le stelle Aiuto mamma Oddio No anche Tori L'ha fatto l'impatto E' una stellare What? Oddio Sembra che ci abbia tipo Il Il grembiule Che abbiamo visto Tra l'altro Lunedì nella newsletter Che terribile creatura Che tortura Un povero Innocente Giovane Ovviamente In teoria Per la maggior parte E' un reskin di Undertale Però Sono pronto Spaziale Però sono pronto A farmi sorprendere Non avere paura Piccolo mio Sono Toriel Colei Che Fa da guardiana Alle Outlands Che Potremmo tradurre Come Terre lontane Adventure Time Io faccio la guardia Alle Adventure Time No Terre lontane Vengo qua tutti i giorni Per controllare se Qualcuno è Naufragato Diciamo Quaggiù Seguimi Piccolo C'è Molto Che intendo Insegnarti Da questa parte Ma si può fare La Frisk Dance Sì God Si può fare La Frisk Dance Che bello Che bello Che bello Le stelline Fosforescenti I giorni Minergiate Vincerai Le comprerò L'ho visto Il trailer Di minecraft Quindi ho una buona Conoscenza Aspetta Ah no Ce l'ho L'acqua Niente Non mi devo alzare Sì sì L'ho visto L'ho visto Il trailer Di minecraft L'ho visto E E Semplicemente E Purtroppo E ciò Basta Per essere Un problema Allora Le industriose Terre lontane Giacciono Davanti a te E ciò Ti riempie Di determinazione HP Ripristinati Ok Benvenuto Nel Nostro Umile Rifugio Diciamo Piccolo Innocente Bambino Ci sono Un sacco Di lezioni Che voglio Insegnarti Riguardo Come funziona La vita Qui Prima di tutto I puzzle Permettimi Di effettuare Questa veloce Dimostrazione Potrebbe sembrare Strano Ma qua Nelle terre Lontane Risolvere i puzzle È una parte Della nostra routine Quotidiana Con il tempo E un po' di guida Vedrai Che ci farei L'abitudine Quando sei pronto Possiamo procedere Va bene So far So good Anche quando Inciampi La volontà Di andare In avanti Si mostrerà Davanti a te Ok O si fa avanti Diciamo Forse Questi Aforismi Diversamente Dal puzzle Di prima Questo è un po' Diverso È qualcosa Di raro Ma Certi puzzle Qua nelle terre Lontane Richiedono L'aiuto Di un altro Mostro Ma pensati Ok Già qua Cominciano un po' A cambiare A rimescolare Anche Proprio le carte In tavola Perché Non c'era Nessuna Meccanica Di questo tipo In Albert Taylor Capisci che cosa Devi fare adesso Sì certo Un buon rapporto Ha bisogno Di fiducia E gentilezza Per andare avanti Molto bene Piccolo Molto bene Adesso è il tuo turno Ok Ben fatto Ancora una riga Da fare Vai avanti Adesso Vado qui Si rompe Il pavimento E diventa Outer Tagliello Sì sì Sono orgoglioso Di te Piccolo mio Vieni con me Quando sei pronto A cominciare La tua prossima lezione Vai La tua prossima lezione Ha a che fare Con gli incontri Con altri mostri In quanto Umano Che gira Per le terre Lontane E' probabile Che verrai Attaccato E se ciò accade Entrerai in quella Che viene conosciuta Come battaglia Grazie al cielo Ci sono diversi modi Per risolverne uno Per ora Ti suggerisco Di cominciare Una conversazione Amichevole Dandomi quindi La possibilità Di risolvere Il conflitto Dal posto tuo Bene Tutto a tema Spazio Si è mosso Il manichino O sbaglio Per cominciare Puoi fare pratica Parlando con il manichino Ha incontrato Il manichino Talk Slap Hug Flirt Addirittura Tacosera Difesa a zero Un fantasma Costi the shell Vabbè Incredibile cheat Un fantasma Nel guscio Spero che stia bene Anche se Mi sembra Che è stato Confermato Dal Da Come si chiama Legends of localization Anche se Vabbè È stato detto Che non Non bisogna Prendere Però L'ho colato La lore O presunta Tale Che c'è Lì dentro Però Questo Non dovrebbe Essere Un fantasma Mi pare Mi pare Dai un abbraccio Al manichino Il manichino Sembra quasi Che stia per cadere Parli con il manichino Ma Non sembra Essere in vena Di una conversazione Torer però È contenta Del tuo comportamento Eccellente Sembri essere Uno che impara Velocemente Beh È gigapalese Che il target Del film Sono bambini Ovviamente Ignoranti E che andranno A vederlo Solo perché C'è scritto Minecraft Pensando che Sarà bello Benissimo Un film di parte elementare Che avevo stamattina E mi ha chiesto Riguardo al film di Minecraft Per poi rispondere Fa veramente schifo Immagina fare un film A chiappa soldi Per bambini Si è rimosso Gli elementari E questi stessi bambini Si rendono conto Di quanto mediocre Isi detto prodotto Sì C'è solo da godere Di questa cosa Cannocchiale su Act Si era molto bellino In questa stanza C'è un nuovo tipo di puzzle Pensi di poterlo risolvere? Ciao Bene Un Volevo analizzare questo Manichino D'allenamento Più o meno Fatto nel 2510 Problemi standard Della Cittadella Che sarà Snowdin Forse Ehi Ti sei rimosso T'ho visto Ciao Ciao Frogit si avvicina Ah Le item invece È la chiave inglese Fait Cos'è? Cazzo Capisco Frogit Attacco 4 Dipesa 5 La vita è difficile Per questo mostro Ribit ribit Giusto Mi ero scordato Di questa cosa Doveva accadere Anche qua Immagino L'incredibile altezza Di questo terminale Ti sobrasta Broccando Il tuo Approcciarsi Ad essa Curioso Volenteroso Sto praticamente Quasi calpestando Toriel Hai provato A controllare Il terminale? Sì Ma è troppo alto Come faccio? Qual è il problema? Hai bisogno Di una mano? Sì Puoi Fare tipo Come ralsi In delta Non così Salgo E ci arrivo Oh c'è Sembra che ci sia Un po' Un problema Di design Guarda come se la ride Pertanto il terminale È troppo alto Affinché tu lo possa raggiungere Non importa Ti darò io una mano C'è un indovinello Che va risolto qua Vorresti provare A risolverlo? Sì Eccellente La voglia di imparare A crescere È importante Specialmente Per un giovanotto Come te L'indovinello Ha la forma Di una domanda Cos'è che viene cucinato Come una torta E fa rima E fa rima con Bugia Lai Vabbè Pai Dice a Toriel La risposta Ah molto bene E con quale atteggiamento positivo? E ecco Il percorso è finalmente Pulito adesso Una volta che sei pronto Puoi entrare nella prossima stanza Qui non penso ci sia nient'altro Da analizzare No ok Andiamo Toriel Bene È tempo per la tua terza E ultima lezione Pensi di poter arrivare Fino alla fine di questa stanza Da solo? No Toriel Sei sicuro? È solo una breve distanza No ho paura Ma piccolo mio È importante riuscire a fare le cose Per conto proprio Non è così? Se ti rifiuti di cambiare idea adesso Toriel potrebbe decidere Di portarti a casa Ah ok Questo però è un avvertimento meta Change your mind Yes È per schippare forse? Le volte dopo? Non lo so Bene Buona fortuna allora Ho questa host Ma come hanno fatto i layout Di questa stanza? È incredibile Cioè è solo diagonale E neanche di che però Ce l'hai fatta? Ovvero Poi chi cazzo ha progettato Una stanza di questo tipo Proprio nel mondo di Oddio ma mi hanno incurato Gli asset Ma scusa Ven Ma le cose rosse Che ci sono sulle pareti Sono le mura Che ci sono nel livello Dei carri armati In MSA tail Vai a vedere Sono uguali Mi piace credere Che Toriel Abba dei feri talmente Batuffolosi Che anche se li calpestassi Non se ne accorge Cioè è identico Sono la stessa identica Parete di colori Usate nello stesso modo Io ragazzi Non ti preoccupare Non sei mai stato davvero in pericolo Si trattava solo di un test Della tua indipendenza In verità Piccolo mio Ci sono Affari importanti Che devo svolgere Penso stai dicendo questo Mentre sono via Mi aspetto che tu ti comporti bene però I puzzle più avanti Devono ancora essere spiegati E Lasciare la stanza da solo Potrebbe essere pericoloso Ecco Prendi questo Telefono cellulare Hai ottenuto Il cellulare Se hai bisogno di qualcosa Mentre sono via Per favore Non esitare a contattarmi Fai il bravo Va bene Bene Ciao Toriel Toriel è quasi dentro il muro Sì infatti Ben e l'audio Va tutto bene Si sente tutto Come si dovrebbe Allora Item ancora nulla Cell Say hello About yourself Color mom Flirt insult Settings Ah vabbè Sì No Open mod folder No grazie Cellulare Di ciao Squilla Qui è Toriel Volevi solamente Dimmi ciao Bene allora Ciao Spero che questo sia sufficiente Eh Anche qua c'ha gli occhi Di colore non proprio nero Sono effettivamente loro Cambia solo che il bordo esterno E senza righette Visto Visto Cioè Mi hanno copiato Hanno visto E messi a terra Hanno detto Oh che figo questo gioco E l'hanno preso Ragazzi È andata così Vuoi sapere di più riguardo a me Beh ho paura che non ci sia molto da dire Sono solo una Anziana e sciocca signora Che si preoccupa Fin troppo spesso Allora Ti chiamo mamma Ah Mi hai forse appena chiamato mamma Beh Immagino Che questo ti renda felice Chiamarmi Mamma Va bene allora Chiamami come preferisci Va bene Flirt Eh Oh Eh Ah Eh Potrei veramente tirarti Quelle belle gottine Che c'hai Ma puttana Sicuramente puoi trovare qualcosa di meglio Di una Anziana signora come me Non ha proprio detto In quel modo Tore Però vabbè Please don't insult the mamma Cosa cosa non ho capito Scusami Vena Cosa Cosa stai dicendo Di non Ah Scusami Troppo tardi Purtroppo Sì Qui è Ma piccolo mio Non penso Che ciò significhi Quello che tu pensi significhi Ora che è il muover Ti immagini Ring ring Pronto Qui è Torel Non hai lasciato la stanza Non è così Ci sono un sacco di pericoli Là fuori E non voglio che tu ti faccia del male Freniti cura di te stesso Va bene Click Beh Si è appena giocato il best hand La vista Di strane E bellissime creature Ti riempie di determinazione HP Recuperati pienamente A me mi sembra che il volume Del microfono Sia un po' troppo alto Però Quindi va basso Ok Si vede il mouse No Ora si Bene Ok Qui non si condivido più un po' Ok Merda Proprio davanti a lui Flutterlight Si avvicina Ok Piccolo crini Il maledetto crini alato Che ha dominato il VGC Per 27 anni Flutterlight Attacco 5 diviso 0 Questo mostro Ha appena imparato a volare Ho paura Oddio Non ma l'aveva appena imparato Guarda lì E' un po' Pari Puro 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 Boost Aiuti Flutterlight A volare più in alto Nell'aria Flutterlight Ti ringrazia E vola via Ok Carino Ribbit ribbit Scusami umano Ho un consiglio da darti Riguardo alle lotte con i mostri Se agisci In un certo modo Combatti fino a che non le hai quasi sconfitti Potrebbero più Non voler più combattere con te Se un mostro non vuole combattere Per favore Admi un po' di pietà Umano Ribbit Tristoria tente di ricordo Te ne racconto al nome di ricordo Ok Ho sentito che sei uno a cui piace flertare Per essere un umano Più flerti con diversi tipi di mostri Più vedrai dei cuori vicini ai loro nomi Tanti più tipi di mostri Tanti più sono i tipi di mostri in cui flerti Tanti più cuori avrai Mi chiedo Quanto lontano tu possa andare Forse amico mio Potresti anche diventare una leggenda Cos'è una side quest Attivi il terminale E riproduci il messaggio in arrivo Alquis La rete di fluidi Fondri Della fonderia Ok La rete di fluidi della fonderia Justamente siamo nello spazio Cosa strane Fantascienza Sta Sta cadendo a pezzi un'altra volta I lavoratori hanno promesso Che le cose sarebbero cambiate presto Ma non sembra proprio il caso Per favore Se qualcuno da fuori ci può aiutare Abbiamo bisogno di voi Ok Interessante No aspetta cosa Space frogs and star flies Or something of the light Ok quindi rane spaziali E Star flies non so come si traduce In realtà Cioè forse intendiamo scendere lo spazio Ah stelle filanti Ok O qualcosa del genere Flirt Flirti con frogit Frogit non capisce che cosa hai detto Ribbit ribbit Il favore aiuta Oddio No ma sta mangiando le moschine Bellissimo Traduci Traduci quello che hai detto Frogit sembra capirti adesso Frogit sta arrossendo Ah Anche se è solo all'interno Blushes dirgli ribbit Arrossisce profondamente Poi si sta mangiando Tipo tutti gli altri mostri volanti Dell'underground Frogit non sembra più volerti combattere Ok Perfetto Attacco difficilissimo questo Ok in qualche modo sono riuscito a schivarlo Flirti con Flutterlight Incapace di gestire il tuo complimento Flutterlight scoppa in latino e vola via Vabbè Vuoi sintetizzare qualcosa Con la macchina Con il distributore di latino Insomma il distributore Che cosa vuoi fare? Caramella Acqua Nulla o un Delta 9 Beh ovviamente Hai ottenuto il Delta 9 Premici per aprire il menu Delta 9 Guardisce 5 HP Questa sostanza si dice che abbia delle proprietà molto rilassanti Ok Hai ottenuto la Monster Candy Ma posso fare quanto mi pare La macchina sta cominciando a malfunzionare Ok Per favore notate che Le apparecchiature Appliances Sì che gli apparecchi Potrebbero essere più proni al malfunzionamento Di quanto non sembrino Ok Ehm In realtà ora non devo fare nulla C'è una porta qua Ma è chiusa Forse c'è una chiave da qualche parte Ok Loro quanto danno? 10 HP Minchia Ha un Sapore distinto Non Licorice Tipo non di liquirizia Non alla liquirizia Ok Sa solo quello che non è insomma E l'acqua invece saprà di acqua forse Acqua guarisce 12 HP Sa come di monosidio di idrogeno Di idrogeno Ma va Ring ring Pronto? Qua è Toriel Per nessun motivo in particolare Preferisci il cinnamon o il butterscotch? Non mi ricordo Come si traducono Un è cannella E l'altro non mi ricordo Cosa preferisci? Butterscotch Ah capisco Grazie molte Ah carino Ring ring Pronto? Vai Toriel Tu Però non è che ti fa schifo il cinnamon Però So qual è la tua preferenza Te l'ho chiesto un attimo fa D'altronde Per forza Ma Saresti comunque soddisfatto Se ti comparisse sul piatto Va bene 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 Ovviamente Allora vai pure avanti L'ultima frontiera È un mare profondo e oscuro Prima di caricare Prima di buttarti diciamo nel grande ignoto Deve aspettare Che le sue correnti si allineino Ok Fatto Oh un altro di questi Easy No ho sbagliato No ho premuto male il pulsante Cazzo era pure easy Ok Quindi ti introduce l'asera già da qui Sì infatti Non hai delle allergie Non è così Beh immagino che gli umani Non possano essere allergici Allo cibo dei mostri Scusami se te l'ho chiesto Anzi dimentica che io te l'abbia chiesto Vabbè questa è un po' una cosa quasi fallosa Ma la facciamo uguale Uh Te da dove vieni Aspetta un attimo C'è Rinander Te l'ho indetto Non mi ricordo Finalmente qualcuno mi parla Sono rimasto qui da anni E nessuno ha preso la mia offerta Sto solo cercando qualcuno E compri questa edizione limitata Di Super Star Walker Di questa striscia Di fumetti Di Super Star Walker I'm the original Star Walker Se hai interessato Ti chiedo solo 10G Eh lo sapevo Farò onesto Non mi sembrano proprio 10G Quelli ragazzino Toro che finalmente Tiene un vero bambino Sostitutivo al suo E finisce per ucciderlo Procurando una relazione allergica Con la torta Ti si scolta Per le trial enemy Davvero Assicurati di prendere Un pezzo Della Bistecca Originale Di Glide Nelle stanze Di attività Addirittura C'è Glide In questo gioco Oddio Cos'è? Lì sul vetro Eh vabbè C'è una roba Frogit Si avvicina Ma scusa Se riflerto Oddio Uh Che bellino Questo attacco Attenzione Trove nuove Tra l'altro Questa Penso sia una citazione Alla boss fight preferita Di Venne In under tegliello Ha un cuoricino viola Perché ho flirtato Con lui Ok Non posso fargli Comparire più cuori Peccato E se Trove No No Non funziona Ah però Un po' Rimane di qua Un po' D'amuse Ok Ah aspetta Forse ora ce l'ho Il soldo Yes Splendido Goditi quel fumetto La striscia Ok Questo l'abbiamo letto Topino Sapere che La Star might Ok vabbè Diciamo Topino spaziale Passatemelo Un giorno E mangerà Beh Quel pensiero Ti riempie Di determinazione Star might hole Sembra comunque Più onesto E fatto bene Di macrofraudit Come scusa Appunto Ma che bello Il napstabrook Lol Ciao Lassi Non so cosa Intendano Lassi Vabbè Il boss Mi ha mandato Qua fuori Per vedere Che cosa fate Voi persone Di paese No Sai com'è Puoi Puoi Vederla come Capisci no Cosa voglio dire Anche se Mi sa che poser Non è fasuro Mi sa che è Qualcos'altro Poser E posare Uno che si mette in pose Basta forse Sono intrigato Perché stiamo vedendo ora Un sacco di roba Che starebbe Molto bevata Sì infatti Beh vabbè Ci sta Perché Se fosse solo Un reskin Di Undertale Non penso Lo giocherebbero L'unico caso Credo di reskin Di Undertale Che è stato giocato E apprezzato E secondo me A merito Anche se Non me ne entendo Più di tanto Dell'argomento È Overtime Perché Quello è veramente Un reskin Fatto stra bene Perché È Undertale Ma È team forte Rest 2 Detto ciò Perché Non guardi Che cosa c'è In vendita Allora Si chiama Sizzly Stick Quindi Bistecca Sizzly E costa 20G Sa di iperbole Non ho i soldi Mi ha deciso Di non comprare C'è scritto Fizzly Soda E costa 5 Chi lo comprerebbe Devo sapere Non hai abbastanza soldi Va tutto bene Lassi Solo assicura Di tornare indietro Quando ne avrai Un po' da parte Sono triste Il cibo Questi giorni È sempre peggio Mi è stato promesso Qualcosa di vero Ma Mi è stata data Solo una Copia Economica Ehi Smetti di parlare male Del mio negozio Davanti ai clienti In più Non hai pensato Che forse Il tuo senso Del sapore Potrebbe essere Quello da incolpare Tipico E qui Perché ci sono Dei giga Di mischi Tipo Un DJ set Abbastanza Fancy Ricercato Equipaggiato Con Vabbè Tutta una serie di cose Che non saprei tradurre Tipo Maniglie E slider Roba da DJ Ah ok Ma cos'è Una pista da ballo Tipo C'è uno zaino Che Appeso a questo Oddio ma è quello di casa mia C'è uno zaino Appeso a questo Attacca panni Ci guardi dentro Che cos'è Un'edizione limitata Del Superstar Walker Comic Strip Scusa Ne ho due ora Il primo Di una Stampa limitata Dei fumetti Di Superstar Walker Il secondo Ok Attenzione Perché non è Ora Non è veramente Più Undertale Ah lo posso leggere Superstar Walker Primo No è veramente Star Walker Però È veramente Star Walker Di Deuterum No Ah 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 Oh no Un piccolo cieco Proprio così Proprio così Nubert Fine No Ragazzi ma che cazzo Ma è bellissima questa cosa No Ma è meraviglioso Posso leggere anche gli altri Ah Queste sono le cazzate Che rendono Sti giochi bellissimi Superstar Walker 2 Gomma Ok E ci sono Star Walker Newbert E Eh non si sa Aiuto Il mio grande tesoro È andato Poi sta dormendo Tipo nella stanza di Lancer Al castello Vieni Al Cyberworld Al mondo cibernetico Ehi Sì sì Sono proprio dei supereroi qua Tra l'altro qua Vabbè hanno messo il punto di domanda Perché non si sa Quale sarà Il personaggio Che svolgerà il ruolo Di Star Walker O Newbert Nel capitolo 3 Lo voglio in coppia fisica Hey Bagel È andato a Est Tutto il castello di Deltron Questa è quella roba grigia Andiamo Una traccia Ma Ah no Sono vicino a Spanto Mi sa Eeeh Cotton Candy Oddio cos'è Il mio zucchero filato Tipo Eh sì Ehi Ma cosa sto leggendo Ma non sta succedendo davvero Ehi tutti Aspetta Wow No Non sta nominando Ma la Spanto è da lì Così spaventatissimo Fine Ha perso No Ma quindi bastava così poco Per sconfiggere Spanto Non vedi te Fantastico C'era un pezzo di gomma Da masticare Attaccato A questa striscia di fumetto La vuoi mangiare? Va bene HP Completamente ripristinati Aha Questa è una reola? Sì Equipaggiamola Ok Bello che ti chieda comunque se vuoi equipaggiare subito l'oggetto Ugualisce 20 HP Ok Viene dallo schianto Con cui Sì diciamo No scusatemi Viene dall'astronave Con cui ti sei anche schiantato qua I mean Tu hai dovuto fare il culo a Spamton Nella sua versione sotto steroidi Quando eri da solo non potevi imparvi molto Non mi infetti Ok Ok Questo fantasma Non ti va a dire Tante volte Ripetitamente Facendo finta di dormire Vuoi provare a camminerci attraverso? No Non si faccia così? Ah ok Allora sì Ecco che arriva Napstablook Controlla Napstablook Attacco 10 Difesa 255 E Napstablook Sono io Fanno male questi? No Sono solo effetti particolari Che ho deciso di raggiungere Bellini Binding Non so cosa voglio dire Flirt Flirti con Napstablook No Ti deluderei soltanto You're not fading up to the train now Sorry Ok Gli occhi di Napstablook Sono un po' persi nel vuoto Credo Chissà se puoi sempre dormire a casa In Napstablook Che cosa succede? Minchia è vero Magari Ti immagini Vedi il sottosuolo Immagini che baro Sul tema di Brughi Cheer Fa Diciamo Regali a Napstablook Un sorriso Paziente Ben Ci siamo capiti Oh my god This game is so difficult So difficult Napstablook Sembra stare Leggermente meglio Fai detto meglio Per No Ti giochi la tua Migliore frase Diciamo Su Napstablook Me la sono persa Non c'è ma cosa hai detto Dovrai ricordarti il modo Perché Se lo dico Diventa troppo evidente Oh L'ha sentita questa Prima Dai Napstablook Lo diventiamo Un inciso Napstablook Chiaramente Non è sicuro Di come Fare a gestire Questa situazione Fai un complimento Sentito a Napstablook Ah Lo pensi davvero Oh E basta Oh Ho rallentato L'anima Napstablook Si sta chiedendo Ha una crisi di identità Di fatto Racconti a Napstablook Una piccola battuta Eh Ah Non puoi esagerare In questo Not feeling Up to it Non mi sembrava Ce ne fossero così tanti In Undertale Rassicuri In Napstablook Circa i tuoi sentimenti Per lui Ah ma Quindi sei serio Oh No Ah Quindi Ti piaccio Veramente Ti piaccio Veramente Ma quindi Outertale E Undertale Ma puoi Flirtare Veramente Con tutti Avere Effetto Vabbè Grazie E Scusami se mi sono messo In mezzo ai tuoi piedi Prima Andrò da qualche altra parte Adesso Ma non ti preoccupare Mi vedrai ancora Più tardi Se ti va Bene Ciao Ring ring Ciao piccolino Piccolino Ho realizzato adesso Che è da un po' Che non pulivo Ci sono un sacco Di cose There are likely Plenty of things Strew About In giro Strew About Sparse in giro Ok ci sono tante cose Sparse in giro Si Le puoi raccogliere Se vuoi Ma non provare a portare Più del dovuto Perché se poi Dovessi vedere qualcosa Che vuoi davvero Dovrei farti spazio Nelle tasche Per quello Ribbit ribbit Ah Al mio amico Non piace tanto Essermi Veramente gentile Se gli viene data La possibilità Decido Di farmi del male Proprio così Farmi del male Almeno tu sei gentile Con me Ribbit Ok Oddio Questo era Flowey Questo era Com'è che si chiamava Twinkie Quello era Twinkie Silente e compagnia Si presentano What Gelatini Silente Gelatini Tacco se ti fissa a zero Stereotipico Attrattivo Grazie Alle sue curve Attraente Grazie alle sue curve Ma non ha cervello Wow Obedisce Alla grande mente Cosa cazzo C'è un suonino In questa osta Che sembrano Quei beats di No anzi Follow di No nemmeno Non mi ricordo Comunque un ale Qui di Twitch Twinkie C'era Twinkie Storytime numero due Dato che fra due episodi Sto l'episodio Duecento di Hollow Knight Pensavo di fare una cosa particolare Dal momento contro il Collector P5 a Bill Non sto facendo proglessi La mia idea folle Era provare a fare Hollow Knight Pacifist Sì no Penso di aver visto Qualche video A riguardo Quindi posso immaginarmi Come sia Sarà cancro Ma secondo me Fattibile Fallo No geo Per cento Ben Pat Dai a gelatini Una carezza Gentile Il suo corpo Cambia colore È il colore felice Una legione Noi siamo una legione Suoni da slime Oddio Umano Fortissimo Gelatini Gelatinigia Trovertiamo con lui Muovi un po' Così I tuoi fianchi Oddio C'erano stato un momento In cui facevo tipo Gli uccelli Che tengono la testa ferma E muovono il corpo No geo Penso sia impossibile Per me Anche gelatini Lo fa Che bella conversazione Ok Movimento Sexy Movimento Sexy Arg E vabbè L'aroma Di gelatina Lime Arriva dappertutto Flirt Flirt E con Considente Flirt Single Mind Sporco Mente Univoca Mente Unica Ma quindi Faccio un finale Segreto Qualcosa del genere Se riesco a flirtare Con tutti Oltre che Risparmiarli Attacco 7 Ripesa 5 Sembra malvagio Ma è solo Con la compagnia Sbagliata Obedisce Andano in tempeare Oddio Vabbè Ma sono cattivissimi Tipo Eh dai Perché non vuoi Diventare Gnoman Perché dovevamo Rimanere da soli Ah perché Era nella cattiva Compagnia Flirti con Silente Heya Ah che bello Sta cosa Ok abbiamo Conquistato anche Il suo dolce Coricino Ti immagini Ammazzarli Dopo aver pure Flirtato Con loro Oddio Mezzo Mezzo Dalve Sei Heya Bello Conoscerti Il mio nome È Silencio Silencio Beh diciamo Silenzio Dai Beh O almeno È così che mi chiamano In ogni caso Puoi sapere Perché mi chiamano Così Sono un po' Tipo un ninja Spaziale Silente Silenzioso Anzi Come la più silenziosa Delle stelle Posso uscirmene fuori Da qualunque pericolo Senza eccezione Non mi credi Prova a fare qualcosa Di strano E vedrai Quanto velocemente Sono in grado Di correre Guarda Mi fai Ok C'ha un po' Di glitch Grafici strani Il gioco Ma funziona Il mio interfunzione Non è una papena No Comunque Le regole Che mi sono dato I boss Una volta sconfitti Non muoiono Hornet Mati Diogrim Si possono combattere I boss Che una volta sconfitti Ok scusami Non muoiono Si possono combattere I boss obbligatori Li faccio fare Alle mini tessitrici Ok Unico minione aggressivo Che posso ottenere Senza uccidere qualcuno Dovrò rinunciare A qualche upgrade Ma secondo me Con un paio di skip Si può fare Non penso che Farò mai Una fase del genere Quindi Fammi sapere Poi Qua c'è un'astronave Un vecchio dispositivo Di iniezione Di benzina Ok Ok qua c'è Toria Il sicuro A noi ci manca Una chiave Comunque Che rimanga Ma è già finita La zona quindi Che rimanga Tra me Ho visto Quella signora Capra Venire qua Poco tempo fa Aveva dei dolci Quindi l'ho chiesto Come mai Le avesse fatti E Beh Ti aspetta Una bella sorpresa Yeee Oddio Underplayer Un mondo Non legato Da associazioni Che esiste Solo Per il bene Della sua bellezza C'è qualcosa Di speciale Riguardo a ciò Ma è Underplayer Per davvero Dimmi Non Non cattura ciò Forse la tua curiosità Si era un po' Delpy Ma Fun event È ottenuto Il piccolo Dipper Cos'è un dipper A parte Gravity Falls Ma Pensavo fosse la chiave Io Mestolo Un piccolo mestolo Oddio ma tra l'altro Penso A che Ah no Che cazzo sono Quei due Cosi neri Che abbiamo addosso Come minima possibilità Su 100 No ma sicuro Ma poi ha fatto il suono Di gaster Proprio cioè Però sembrava Underplayer Boh non lo so Bello lo sfondo Comunque carino Per ora Sono soddisfatto Non ho la chiave Però come si fa Allora una vecchia chiave inglese Arrugginita Piccolo mio Come sei arrivato Quaggiù Stai bene Sembri ferito Ecco Ecco Aspetta che ti guarisco Mi scuso Giovanotto È stato sciocco Da parte mia Lasciarti per i fatti tuoi Vieni Ho una sorpresa Per te No bellini C'è anche l'andertesta Cosa ma bellini Benvenuto Nel mio parlamento No non credo Che sia un parlamento Nel mio salotto Ok Puoi annusarlo Mi era tutto brusi Puoi annusare Can you smelly Vabbè Lo senti nell'aria Sorpresa Ah ok si Sorpresa Si tratta di una Butterscotch cinnamon pie Ho pensato che avresti Preferito questa Rispetto a una Torta Da Lumaca Insomma una torta Dalle lumache Per stanotte Ora È passato molto tempo Dall'ultima volta Che mi sono presa cura Di qualcuno Ma voglio che comunque Tu passi Abbia dei bei ricordi Del tuo tempo Passato qua Seguimi Ho un'altra sorpresa Per te Cosa c'è in giro Questo è tipo Un cannucchiale No Ok Una Cornice Vuota È una bellissima vista Dello spazio esterno Secondo me ci saranno Inconsistenze spaziali Proprio Della mappa di gioco Però Chi se ne frega Va bene Irrealistica Perché è quasi perfetta La La Il mobiletto Insomma Un divano Che sembra molto Confortevole La tentazione Di annegarci Dentro Ai suoi Cuscini Morbidosi È difficile Da resistere Di questo tappeto Disturbante Non diciamo nulla Ok Oddio il fuoco blu Il cammino di Toriel Non è troppo caldo È gentilmente Tiepido Potresti forse Addirittura Interarci Ma E Sgusci dentro Al cammino E lasci che Il suo calore Ti Di voi Ti trovi Molto a tuo agio Ero qua che aspettavo Va bene Ok È un gioco Di quel tipo Va bene Si godrà tanto Allora mi sa Va bene Non è una cosa Che farebbe Toby Fox Secondo me Però mi fa ridere Quindi sono contento This is fine This is fine Bellissimo No basta Non volevo con questo È deciso di non entrare Una sedia Un poltrono In questo caso È nato da lettura Molto confortevole Che palle Kasper Sky Non mi interessa nulla Il tizio che ha progettato Questa scena Ha sbettato per tutta la vita Sembra proprio Proprio della dimensione giusta Per Toriel Non è Ceriel Una delle serie Da cena Di Toriel Della dimensione giusta Per un re Questa invece Andrebbe bene Per un piccolo angelo Come te Una delle serie Da cena di Toriel Va bene Per una regina Ci sono Va bene Grovigli Di Un Non Melatorio Grazie Del follo Spero tu non sia un bot Che già Stasera Uno mi è capitato Quindi Qui va beh Insomma C'è tutto Incastrato Schifoso C'è una nuova barra Di cioccolata Di cioccolato Con un nuovo nome Nel frigorifero La vuoi? Certo Hai ottenuto La barretta di cioccolato Barretta di cioccolato Guarisce 19 HP Ammazza Per una pass Questa roba è tanta Cioè È tanta roba Questa Si tratta di un dolcetto Che ti si è meritato Il banco da taglio di Toriel Non Non è così consumato Come lo era un tempo Guardate Il cioccolato è già stata presa Il mio dubbio è countertop Countertop Piano di lavoro Ah ok Quindi c'è una macchia A forma di anello Che è quasi invisibile Sul piano di lavoro Come ti capisco Qua Toriel Mamma mia Ah pure wow Ok Il gas È molto pulito Non mi ricordo come si chiama Il piano cottura Il piano cottura è molto pulito Toriel deve utilizzare Il fuoco magico Al suo posto C'è una Ricetta Cartocciata Per il tè Diciamo spaziale Andiamo un po' Improvvisare con queste traduzioni Non so nemmeno se Hanno delle traduzioni Effettive Un attaccapanni Un attaccapanni di strumenti musicali avanzati No cotrack sarebbe Quindi scaffale Ok Uno scaffale di strumenti musicali avanzati Guardando meglio realizzi che questi sono Ah i fire pokers Quelli che metti nel falò per spostare il carbone Tipo È difficile da capire però Visto che Questi strumenti Sono probabilmente stati fatti Prima Che le terre lontane esistessero Ma quanta loro stanno cercando di droppare Fin dai primi istanti Bah Attizzatoio Io sì probabilmente Non sapevo nemmeno Che si chiamassero così in italiano Fire pokers Giusto? Sì Attizzatoio da fuoco Sì Però non capisco perché mi dice Esistevano da prima Cioè Questa prima era una wasteland Quindi non c'era il fuoco e basta Fuoco e fiamme Non lo so È una libreria Prendi un libro Lo sapevi che le lumache Hanno una lingua motosega Chiamata radula? Non molte persone la sanno Questa cosa Un'altra cosa figa riguardo a loro È come il loro sistema digerente Si inverta con il loro maturare Oh e ho anche menzionato che Parlano le lumache Davvero Lentamente ma lo fanno Sto scherzando Le lumache non parlano Cioè Te lo immagini un mondo in cui Le lumache parlano? No io proprio no Sì perché uno in cui le capre parlano E' effettivamente non è normale Rimetti il libro a posto Ah Aspetta Ricerta di famiglia dei Dreamhur Torta alla lumaca Si tratta di una tradizione Tra i membri della Famiglia Dreamhur Farla è un processo semplice E può essere diviso in 5 passi Primo Prepara Prepara la crosta in fondo Appoggiandola in cima A un piatto di torta Poi Whisk Frusta Ah si dice così? Ok Frusta Latte evaporato Uova E spezie Tutte insieme In una ciotola Fino a che Non si amalgamano Poi Prendi diverse Lumache Invecchiate E incorporale Con cura Nella mix Dopo aver fatto ciò Metti i contenuti Della ciotola Nella Bottom crust lab Poi prepara Poi prepara la parte Invecci in cima Tagliando Delle Degli strati Dei fogli Infatti non capisco Lastre Non solo Lamina Tagliando in strisce La lamiera E formando Una Lettice Tipo griglia Credo Perché C'era questo concetto In un corso di algoritmica Reticolo Ecco esatto E poi Cucci Cioè Cuoci la torta Una volta che è pronta Togila dal forno Lascia che si freddi E servila Rimetti il libro Sulla Libreria Ma ogni volta è diverso Ciao amici giardinieri Quando si tratta Di Fiori spaziali La linea Che c'è Che separa La crescita Dalla stagnazione È l'accesso Allo spazio aperto È per questo che Crescono comunemente Nelle Nella Zona Aerialis La butto lì Secondo me È Waterfall E sta parlando Degli ecoflowers Praticamente È la zona più aperta Ah no Ok Delle terre lontane Però non è il maiuscolo Non lo so Metti Il libro Dove l'hai preso Ok Sono solo tre libri Ciclano Sì Non sai che questo libro L'intera ricetta Adesso starei qui a leggere I prossimi 20 minuti Beh in realtà Se sono stati 20 minuti Li ho compressi Molto bene Oh la mamma mia Cioè Tore è rimasta Lì davanti alla porta Così Per tutto il tempo Dice Vai dammi la mano Cazzo Ma guarda un po' te È una stanza Tutta per te Spero che ti piaccia Bene Adesso devo andare A controllare la torta Per favore Fai come se fossi A casa tua Una scatola Di Navette Di modellini Di navette E Del vetro rotto Sembra che qualcuno Abbia rotto Le sue piccole navicelle No Hai ottenuto La batter scotch Pai Eccoci qua Guarisce 99 HP Non All HP Ok Beh ovviamente Questo ce la portiamo Fino in fondo Un armadio Pieno di Di Magliette a righe Gialle e blu Solo Magliette a righe Gialle e blu Basta Ibietato Indossare colori diversi In Outer Tail Il disegno Di un ragazzino Di un bambino Che rappresenta Un gigantesco mostro Con ali Arcovaleno Va bene È proprio come Quello che ho a casa Oh Basta Con questa strana Shadow Lord Drop Guardi dentro Alla cassa Che cos'è Un'edizione imitata Oddio Di Super Star Worker Comic Strip No Fammi Buttare via Cosa butto io Ah ho 30 HP Tra l'altro Vabbè via i Rusty Spanner Senti Tanto O Little Deep Quindi Rusty Spanner Drop Ok lo butti via Vediamo un po' Terzo Sì lo leggo subito Il terzo Il terzo Il terzo di un'edizione Limitata Del fumetto Di Super Star Worker Vai Super Star Worker 3 In arrivo presto Perché Capito 3 Non è uscito Cazzo Non ci può leggere Non ci posso credere Hanno fatto Ma Ma questa è una cosa È una cosa Stranissima Perché giustamente C'è il primo Che Tra l'altro Vabbè qua Sembra quasi Starlo Dedicato al capitolo 1 E E poi Qui invece C'è il capitolo 2 E ora ci saranno Tutti gli altri Dobbiamo uscire In realtà Non ci saranno Gli update Di Outer Sì Dobbiamo sapere La storia di Super Star Worker Ah E' bene questo Una cornice vuota Non c'è molto altro Da dire Questa pianta Sembra abbastanza Corni G G G Corni Banale Secondo me Google traduttore Non sta traducendo Adeguatamente Guarda Guardi Sotto al tavolo Per trovare Un Set Di Pastelli Il pastello Blu Così sfuggente Che Che manca Da migliaia No scusatemi Da centinaia di anni Davvero una leggenda Del nostro tempo Ma Manca perché Tipo è tutto colorato Di blu Come devo interpretarlo Questa pianta è Entusiasta Di vederti Ma quante stanze Ci sono Scute E' il letto Di Toriel Di sicuro Troppo grande Per uno come te La serie Da lettura Dedicata Di Toriel Sa di ossa pigre Lazy bones Bellina sta cosa Bravi Hanno voluto Praticamente Rifare Undertale Ma con delle Differenze E Ce ne sono state Alcune più Ecratanti Tipo la mappa E tutto Queste piccoline Sono molto Apprezzabili Però Guardi il paragrafo Cerchiato Domanda Perché lo scheletro Voleva un amico Risposta Perché si sentiva Ho solo La battuta continua Vabbè Sono tutte Le battute continue Sono tutte Lo stesso calibro No Cosa Come fa Uno scheletro A dire addio Ci vediamo Do Tibia Non lo so È un tipo Solitario Questa non faceva Proprio ridere Manco per il cazzo Perché lo scheletro Si Rigirava nel sonno Perché stavano avendo Un sogno Femorale Come cazzo Lo traduci in italiano Cosa dice uno scheletro Quando inizia una battaglia Vabbè I've got a bond To pick with you Ma davvero Questa non è nemmeno Una battuta Stiamo perdendo Delle cellule Del cervello Qui Dei neuroni Che cosa c'è Su per le scale Chiese lo scheletro Ma le scale Non risposero Non ho parole Vabbè Qui proprio Frisca Ha una sua personalità Portissima Guardi il paragrafo finale Minchia che pallo Mi sono perso Per sempre il secondo Aspetta Questa non è una battuta È arrivato un umano Nelle out Lenz oggi Clover Oh Subito Sans Name drop Mi fido che Sans Mi farebbe da guardia Ma Non lo voglio Costringere a farlo In più Può una sentinella Reale Raga Si Reale Proteggerli Dall'arresto Delle terre lontane Ah ma perché Scusatemi Ma perché Outpost Non sono le rovine Forse Ho sbagliato L'outpost È tutto Cioè anziché Underground C'è l'outpost Lo schippare Qui ci sono No no infatti Però all'inizio Pensavo che mi Dicesse la stessa Cosa Quindi Quindi la seconda Per sbaglio Ho schippata Beh Spero che Questo tipo Di domande Saranno presto Inutili Ah bene Mi fa più leggere Ah il cactus Sicuramente È la pianta Più zundere Di tutte Hanno fatto bene Questa Lasciarla così Com'era Perché era picca La pianta Più zundere Incredibile Prasa incredibile Dai un'occhiata All'interno Scandaloso È la collezione Di calzini Editorial È un po' In disordine Vuoi pulire Sì Riorganizzi I calzini Affinché siano Accoppiati Sembra che ci sia Una chiave Chiave Prendo Mia La chiave segreta È stata aggiunta Al tuo Keyring Cioè Al tuo portachiavi Diciamo No il keyring Sarebbe proprio Tipo l'anello Di metallo Con tutte le chiavi Attaccate Ma insomma Che cosa potrebbe Sbloccare Non puoi fare a meno Di guardare ancora I calzini È la libreria Privata di toglierli Qua c'è un sacco Da ingaggiare ragazzi A distanza di anni Non mi prendo Quegli smiepifici Allora Prendi un libro Il nostro Il nostro pianeta natale È andato La nostra gente È morta Ma perché Gli umani Devono aver avuto Un motivo Per cui attaccarci Davvero La nostra razza Era così pericolosa Per loro Davvero La minaccia Del nostro potenziale Era così Terrificante Per loro Mi sono pisciato addosso Con l'acqua Qualunque sia il caso Eravamo stati messi All'angolo E non c'era Nessun altro posto In cui andare Capitolare È stata la nostra Unica via di sopravvivenza Rimetti il libro Dove l'hai trovato Quando un mostro boss Nasce Un legame magico Si forma Tra il genitore E il bambino Attraverso ciò La loro anima Viene creata Invecchiando Facendosi Così che il genitore Va bene Invecchi Insieme al bambino L'anima Di un mostro boss Del tutto cresciuto È la più forte Nota Alla razza Dei mostri Capace infatti Di resistere Fin dopo la morte Anche se Per un periodo Di tempo Veramente breve Ci preoccupiamo Spesso Di che cosa Accadrebbe Se un umano Ci attaccasse Ma se uno Dei nostri Ci attaccasse Invece La società Sarebbe in grado Di gestire Un tradimento Di questo tipo Ma chi penserebbe Mai di fare Una cosa del genere Ok Ok È una pianta Casalinga Che altro C'è da dire Va bene Non aveva voglia Di scrivere È il cestino Privato di Toriel Che contiene Delle lumache Un sacco Di lumache Guardi Sotto al tavolo E trovi Un deck Un mazzo Di carte Sono olografiche Ovviamente Ovviamente C'è ovviamente Figure Stanza sotto Rinnovamenti Sei tu Oddio Oddio Da qua Sembra quasi La faccia di cara Alla fine Della geno Sai Questa pianta Ben Normalissima Noiosa No Noio Ciao Sei tu Immagino Omega Twinkly Come una Supernova Sì sì Infatti Sono curiosissimo Anche io È la chiave Del basement Toriel Ma come si fa Tra l'altro A scappare Dalla tua casa Ah Devo usare La chiave Probabilmente E vuoi Che ti Che ti riproduca Una delle tuoi canzoni Va bene Vedrò cosa posso fare Ma è al telefono Stava parlando Con Sans Da qua Che stavi Arrigliando Esattamente Che abbiamo Un po' Beh immagino Non importi Napsta Bucca Ok Uno che Fa visite qua Mi ha offerto Di suonare La sua musica Infatti Ci ha invitato Specificatamente Affinché stessimo Con lui Sul palco Ti va Di visitare La stanza Delle attività Per vederlo Sì certo Ho capito anche Dove siamo Secondo me Dove c'è Il setter al dj Che tra l'altro Riprende un po' L'idea fanon In realtà Che Napsta Bucca sia Ah no Non è vero È canon In realtà Cazzata Perché viene fatto vedere Se non mi ricordo male Nel finale Pasidist Di Undertale Che Napsta Bucca Suonare il dj set Insomma Che non escapi Il fangame Ends here Oh no La vera Undertale L'experienza Che non era possibile In Undertale L'experienza Aspetta che qua Ok Wonderful Vi farò sapere Che stiamo arrivando Wonderful Wonderful Più tardi Ehi tutti Questa è una piccola melodia Che ho scritto un po' di tempo fa Ma perché siamo insieme a lui? Ho fatto qualche esperimento Con il mio stile Ultimamente Quindi Beh Spero che mi piaccia abbastanza Veramente carino Ounque ci siano Queste differenze Beh Ecco che si va Mantiene lo spirito originale Ma Con un crystal Perché Napsta Book non me l'ha mai menzionata? È così bello Forse È solo Timido Che poi Napsta Book Che Toria Non avevano chissà quale rapporto In Undertale Mi pare Avevo letto O Balls Vabbè Sì è vero C'è Walshaw Che pulisce E' quello Il Breakdown Balls Impazzito Completamente Napsta Book Topperia Beh Sì Era qualcosa Se non altro Sì era qualcosa Ah no Che era un altro Che lo stava dicendo Oh beh Forse vi ho fatto annoiare Scusatemi No aspetta È stato Non penso Che ti possa sentire Toriel Sì Non lo fa mai Ok Questa era Una shortcut In realtà Ma gli altri Fumenti Tra l'altro Come li trovo Non si sa Era solo un modo Per farmi tornare Velocemente Quaggiù Qua niente Ah cazzo Ok Così da provare la chiave Bella Non è più niente A vendere Che bella vista Qua Qua Ok Forse sto andando un po' troppo indietro No Perché è qua Utilizzi la chiave segreta Uuuu Attenzione Questa vara Risale al dicembre 2500 Di C'è An old record Keeping manifest Stash the next to it Manifesto Come cazzo lo traduco Aspetta Faccio una foto direttamente Alcanto adesso è nascosto Un vecchio manifesto Di conservazione Di documenti Bella traduzione Il nuovo traduttore Bravo Puoi accedervi? Sì Guardi la prima pagina Ammarapena riesce a leggere Comincio Ho deciso di iniziare Un diario Giornaliero No anzi un diario Semplicemente Perché mamma ha detto Che sarebbe stato divertente Oggi ha imparato Come fare a mettere i semi Nel giardino di papà Dice che cresceranno presto Ma Che ci vorrà anche Tanto Timpo Leno It will take a long time Leno Mamma farà La barra per Asriel e Cara Guardi la seconda pagina Diario di Azzi K504 Mamma ha detto Che dovrei scrivere la data Così le persone possono sapere Quando l'ho scritta le cose Ma se è il tuo diario personale In teoria I miei fiori spaziali Ancora non sono cresciuti Ma papà mi ha promesso Che lo faranno presto Vorrei che ci fosse una finestra Nella mia stanza Ma papà ha detto che There is Pluming Here Cos'è plumbing? C'è del piumaggio qui Nel senso di fumo? No Spread out in a shape resembling a feather No Boh Non so Ha detto Forse voleva dire un'altra cosa Ma non ho capito L'errore Diciamo che ha fatto Come preferisci Ven Ha detto che Mi avrebbe messo una finestra Nella Stanza principale Però Anche oggi è una bella giornata Puoi leggere la pagina successiva? Sì Vai fino alla terza pagina Sembra che siano passati un po' di anni In che non hai scritto un cazzo Asriel Non hai capito come funzionano ste aggeggi Diario di Asriel K50603 20D87 ha evocato Kitana Vai Aspetta Ciao ragazzi A che cosa state giocando? Ma questo È Undertame Nello spazio È incredibile Così come è incredibile Che non riesca più a mettermi a fuoco Ciao Sono qui È Ecco Ecco fatto Ciao Ven Vediamo Uh stiamo leggendo il diario di Asriel Vediamo Il mio vecchio diario Era in una scatola di giocattoli E volevo Mettercene degli altri dentro Sembra che Abbia scritto solo la prima parte della data L'ultima volta Però in ogni caso I fiorettini spaziali che ho piantato la volta scorsa sono cresciuti alla fine Oh Però Ho fatto Ho lottato Ho avuto una lite Con un amico l'altro giorno E non ci siamo più parlati da allora Sono preoccupato per loro Spero che non sia ancora così arrabbiato Anche la prossima pagina leggiamo La quarta Diario di Asriel K50603 Chissà cosa vuol dire Ho parlato con il mio amico Dice che non è più arrabbiato Bello Mamma io stavamo guardando il cielo Che c'è là fuori E abbiamo visto Una stella cadente Ha detto di esprimere un desiderio Vorrei che un giorno arrivasse un essere umano Questa cosa sembra tipo Lilo e Stice Lilo e fa Ti prego mandami un angelo Oddio ti prego mandami un angelo Arriva Stice Cioè sembra proprio quel meme Mamma e papà mi hanno raccontato così tante storie Ricordo loro Non possono essere tutti cattivi o no Anche la prossima pagina La quinta Diario di Asriel K50603 Non c'è molto da dire per oggi Forse questa idea del diario Forse prima me lo sbagliavo Vabbè Sul fatto che non sta scrivendo giorno in giorno Vabbè Forse questa idea del diario è stata un po' sciocca Mamma mi ha visto mentre stavo scrivendo l'altro giorno E ha detto di essere stata fiera di me E' così tanto importante in lino Che lui sta imparando a leggere Sesta pagina Sembra che siano passati degli anni Uh è cambiata la voce Diario di Asriel K51008 Sembra che non sia in grado di scrivere troppo a lungo su quest'affare Ma oggi ho ritrovato questo libro E ho deciso di scriverci altre cose Gli ultimi anni sono stati buoni Sono andato a scuola e ho imparato un sacco di cose Tipo come sommare i numeri O come usare un computer Mamma ha detto che sono troppo giovane Per farmi un account online però Forse un giorno quando sarò più vecchio Potrò averne uno Non sarò più grande Vai alla settima pagina In diario di Asriel K51008 Quel tizio Intelligente mi ha visitato di nuovo oggi Ha detto che ha fatto un incubo riguardo a un umano Oh l'ho menzionato? Lui è la persona di scienze Di cui parla tanto Babbo Scusate ragazzi Mi sa che catema vi vuole Ciao Raga Sta parlando di Gaster Ha inventato un sacco di cose Che utilizziamo oggi Tipo i replicanti E i fabbricatori E le cose riguardanti I piatti No le plate Sono le mattonelle Diciamo di gravità Si è dato Però mi ha guardato in modo molto strano Come se tipo fosse spaventoso Ho fatto qualcosa che non va Ma quante pagine sono scusami Diario di Asriel Una nuova stella apparsa nel cielo quest'oggi Una che è veramente luminosa Mi chiedo perché Non compaiono sempre stelle di questo tipo Inoltre stiamo per spostarci a una nuova cittadella Non appena sarà completata Ho visto i progetti di quella Sembra veramente bella Per ora Sarà molto meglio Che vivere nella fabbrica Ok Quindi questa era una fabbrica? No Ok siamo in un altro timeskip Ho incontrato un vero umano ieri Si è schiantato nella zona della spazzatura Vicino alla casa L'ho aiutato a uscire E mi hanno L'ho aiutato a uscire e mi ha ringraziato Non avrei mai creduto che sarebbe potuto accadere Ma eccoci qua E sono proprio un Anzi veramente è un sederino che puzza E Vabbè qui proprio hanno detto Ok questa è roba che giocheranno solo Le persone che hanno già giocato ad Undertale Quindi sapete già la lore Allora Ve la buttiamo in faccia così come è Non c'è nessun mistero Ma divertiamoci un po' Mi piace Ok in realtà mi sto nascondendo sotto le coperte Così che Katema non possa incasinare quello che sto scrivendo Bellissima questa cosa Questa mi piace Forse a volte È un po' rude Ma va bene così Mamma ha fatto quella cosa della battaglia con lui E il suo cuore era rosso E al contrario Ok questo è un po' troppo Specifico e legato secondo me al gameplay Io non l'avrei fatto È una cosa tipo alla No perché i mostri Creano delle vibe Che producono una musica Come dice Undertale Ma non mi trovo molto Su questo tipo di Di cose È bello avere qualcun altro Con cui parlare tutti i giorni Tercema pagina Diario di Asile K509-09 510-09 Mamma ha detto che adotterà Katema della famiglia Non so cosa voglio dire adottare Ma penso che voglio dire Che saremo tipo fratelli Ma è una cosa che mi piace Perché vuol dire che potremo passare più tempo insieme Io e Katema faremo tutto insieme E mi ha anche chiesto scusa per quello che è successo nell'ultima pagina Di Diario Non gliel'ho ancora detto ma lo perdono Oh allora Attenzione Diario è cresciuto È un bambino di 10 anni credo ormai Diario di Asile K51509 Risnodhi per Mining È un fan di Don Gercchio Katema ha detto che è il momento del piano Aaaaaah Faccio impazzituto Ero spaventato Ma ha detto che potevo farcela Dopo questa pagina di diario Aspetterò che si mangi la torta La torta avvelenata che abbiamo fatto Minchia ce vanno giù Pesanti e Espliciti E poi possiamo salvare tutti quanti insieme Se c'è qualcosa che non va E le stai leggendo questa roba Voglio che tu sappia che sei il migliore Katema Grazie Sembra che qualcuno stia piangendo No Non c'erano più pagine A leggere Allora qua probabilmente c'è In teoria Se seguiamo il canon di Undertale Canon Quello che presumo essere il canon di Undertale Perché di queste cose non c'è conferma ufficiale In un gioco Però insomma ci sono tanti indizi che puntano in quella direzione Questa dovrebbe essere in realtà la bara Più che altro di Cara Anche se no In realtà no Scusa e poi che devo fare Scusa Ora dobbiamo tornare da Toriel E poi fare cosa? Non lo so Comunque ci avviciniamo alla fine della live purtroppo Perché Voglio cercare di non fare più tardi delle 11 This time for real Che l'altra volta La newsletter mi ha portato via la vita Qui c'è da lui Ok Ricorda anche Che questo è un fan game dove fare esaminita La roba è diversa Vediamo se pur cambiando la lore Escono ad essere coerenti con se stessi Sì sì Ma questo è un terzo Se batti un mostro Fino a che non è quasi morto Il suo nome diventerà blu Strano vero? Ma ho sentito che Anche gli umani diventano blu Quando vengono picchiati a morte Quindi immagino tutti ci possa trovare Grazie per avermi ascoltato Ribbit Comunque per ora abbiamo tipo quasi No abbiamo tre full health Praticamente Ah è di qua Eccola l'uscita Questa piccola carina Casa di tatriente di determinazione Che c'è piccolo mio? Sei affamato? Forse vuoi sapere di più del libro che sto leggendo? Angry Home Sei affamato? Vorresti che ti facessi una colazione? Va bene Andrò in cucina a prepararla Ben Guarda lo schermo ora She said it She said it again Va bene Tori Io intanto non faccio niente di pericoloso Non ti preoccupare È pronta la colazione Ma come? Ok ho preparato un piatto di Ma come? Di lumache fritte giusto per te E te la lascio qua sul tavolo Non starci per troppo a lungo lì dentro Vabbè E se lo faccio invece? Tori Vado a riempirmi la pochietta d'acqua Va bene E te Non ti preoccupare Stai lì Fatti cazzi tua Io mi faccio cazzini Vado da qua E vediamo se succede qualcosa Questo è il content Non so se mi potete sentire Ma questo è il content Penso di sì comunque La casa è tutta qua Quindi immagino Che mi si salita Allora Devo mettere questo qua No Ah niente Va bene Usciamo allora Eh lo so che sto trasportando troppo Buttiamo via questo Quanto danno L'oro di vita Secondo me è tanto Eh infatti Cioè per la base Piste sei già a posto Ti ho già dato la colazione Non possiamo avere più di una colazione al giorno No? Sarebbe sciocco Ah il libro Sì È una piacevole lettura Si chiama Mostro generoso Ed è stato scritto da un umano Vuoi che te lo legga? Sì Splendilo C'era una volta un mostro E lei Ok Amava un piccolo umano E tutti i giorni E tutti i giorni L'umano veniva a farle visita E loro correvano E giocavano insieme Nei campi Cantavano canzoni insieme Raccontavano Si raccontavano storielle L'un l'altro Cercare di fuggire di casa Restare a prendere fuoco Dentro il cammino Sì Esatto E poi andavano a giocare a nascondino E quando l'umano Si stancava Lei lo metteva nel letto L'avrebbe messo nel letto E l'umano amava molto il mostro E il mostro era felice Ma col passare del tempo L'umano devenne più anziano Il mostro veniva spesso lasciato a se stesso E un giorno l'umano tornò A lasciare a se stessa E il mostro disse Vieni umano Vieni a giocare Sono troppo grande per giocare Disse l'umano Voglio guidare Trovarmi una nuova casa Scusa Disse il mostro Ma sono troppo povera Per avere una macchina Ho solo i miei piedi Se mi sali sulla schiena Posso correre dove hai bisogno Così potrei vedere la città Ed essere felice Pertanto l'umano salì sulle spalle del mostro E il mostro lo portò a una nuova casa E il mostro fu felice Ma l'umano si allontanò per molto tempo E il mostro si rattristi Rattristò Poi un giorno l'umano tornò Che cazzo mi sta raccontando? Scusa cos'è sta roba? E il mostro sorrise da Fece un sorriso enorme Da orecchio a orecchio E disse Vieni umano Vieni e salimi sulla schiena Sono troppo triste per girare Girare così in giro Disse l'umano Vorrei avere una famiglia E i bambini miei E dei miei bambini I miei figli Scusa mi disse il mostro Ma non te lo posso dare Sono solo una persona Fai più visite E possiamo trovarti un appuntamento Così potrai trovare l'amore Ed essere felice Pertanto L'umano visitò il suo vecchio amico Per un po' E il mostro Gli trovò qualcuno Che potesse piacergli Il mostro era felice Ma l'umano rimase Lontano per molto tempo O Fino a che alla fine non tornò Stette lontano per molto tempo Fino a che poi non tornò E il mostro Di nuovo fu felice Ma malapena poter parlare Lei Forza umano Mi svegliò Vieni A farmi visita Sono troppo anziano E occupato Per farti visita Disse l'umano Ma Cos'è una metafora Per i genitori e i figli Vorrei un posto Per dover riposare Per la notte Scusa Disse il mostro Questa cosa sta diventando Più seria Di quello che non dovrebbe essere Ma non ho Un letto Dell'altra dimensione Sono troppo povero Povera Per permettermene uno Ancora Dormi con me Per stanotte Così potrai Riposarti Ed essere felice E l'umano E il mostro Pertanto Dormirono insieme E il mostro Fu in grado di Mettere l'umano A dormire E il mostro Fu felice Ma non davvero E dopo un po' E dopo un po' di tempo L'umano Tornò ancora Mi dispiace L'umano Disse il mostro Ma sono caduta In coma Le mie gambe Non ce la fanno più Non ti posso portare Da nessuna parte Non c'è nessun altro posto Nel quale vorrei essere Disse l'umano Non posso trovarti Un appuntamento Non conosco nessun altro Disse il mostro Non c'è nessun altro Con cui vorrei stare Disse l'umano Sono troppo debole Perché tu dorma Insieme a me Disse il mostro Non ho più bisogno Di dormire Disse l'umano Mi dispiace Si inghiuzzò il mostro Vorrei avere qualcosa Da offrirti Ma non ho niente Che mi rimanga Sono solo un vecchio mostro Che si approccia Alla sua morte Ma che cazzo Mi dispiace Non mi serve molto In questo momento Disse l'umano Solo un abbraccio Dal mio migliore amico Prima che io muoia Beh Disse il mostro Rinvigorendo la sua postura Un vecchio mostro È sempre disponibile Per una cosa del genere Vieni umano Vieni qui Stai con me Per un'ultima volta E l'umano lo fece E il mostro fu felice Beh questa era la storia Spero che ti sia piaciuta Terrificante Bella Ma terrificante Tu non mi rileggi il libro Vero Ok Ok direi che ci fermiamo qua Anche se siamo a un passo Dal scappare di qui Livello 0 Love 0 Nemmeno 1 Ok Oddio Presumendo che è un timeline Other slots Interessante Ok Ah perché questo Partiamo Fatto anche prima Ma insomma Molto bene Ah comunque Mio piccolo story time Oggi mi sono sentito Con mia sorella A parte A parte mi ha detto Ben Che ha intenzione Di Continuare Undertegliello Anche se a distanza Ci sentiremo Un videochiamata Quindi Yeah Ma Mi ha detto Una cosa assurda Che Sono troppo stanco Ma questa è la notizia Più folle Del mondo Siamo stati Solo a parlare Di quello Praticamente Durante la telefonata Nonostante Lei faccia Una scuola Un liceo Completamente diverso Rispetto al mio Da completamente Un'altra parte Della città Di Firenze Il destino Figlio di puttana Qual è Ha deciso che La sua Insegnante Di storia dell'arte Disegno tecnico Sarà la stessa Che ho avuto io E Vaffanculo Universo Perché No Cioè Di tutti gli insegnanti Cioè Di tutti gli insegnanti Che potevi Darle Hai scelto La seconda Che più mi stava Sul cazzo Tra l'altro Mia sorella Mi ha raccontato Delle cose Perché ha detto Ah Ti chiami così Ma io sai Che avevo uno studente Che si chiamava così E lei Si chiamava Cioè che aveva questo cognome E lei È Alessio E lei Ah sì È È mio fratello Ah ma pensa Ah Fai quella Dal Belgio Sì sì No ma poi le ha detto Ah E mia sorella Mi ha detto Che questa professoressa Non faccio il nome Ovviamente Le ha detto anche Sì mi ricordo di lui Ricordo che era Tanto fissato Con quei videogiochini Spero però Che sia passato A qualcosa Di più serio Cioè Oddio Oh Cristo Benedetto Il suggerimento Che ho dato A mia sorella Su come risponderle Nel caso si ripresentasse L'occasione Non lo posso raccontare In live Perché Rischierei Veramente Il ban Madonna Ragazzi Madonna Ragazzi Vi giuro Il male Che mi è salito A sapere Questa roba E nonostante tutto Ha avuto pure Il coraggio Di dire A mia sorella Di portare A me I suoi saluti Ma Io dico O Dici le cose Senza pensare Oppure Sei demente Perché lo sai Che io ti volevo morta Lo sai Nel gioco Twitch Nei videogiochini Nei videogiochini Ovviamente Sto scherzando Però lo sai Che nei videogiochini Io ti volevo morta Quindi Cosa cazzo Mi porti I tuoi saluti Ghibbio Comunque Chi è Big Chungus Scusate C'è un contatto Che si chiama Vabbè Lasciamo perdere Ok Ok Oggi Sono andato A far compagnia Alla Mimgirl Mentre lei Faceva shopping E mi sono portato Dietro Fabietto Nome Playsolder Di fantasia Mi sembra Tra l'altro Non mi sembra Che abbia un nome Di per sé Il protagonista Di Tunic Non mi ricordo Hero The Hero Qualcosa del genere Mi sembra Un personaggio pronto Per l'avventura Sì E ho pensato Che a giro In un negozio Potesse essere Un buon inizio Nella famiglia Da poco Ma se rendersi utile Tenendo gli acquisti Bellissimo Coin casa Ho fatto un casino Penso La bottiglia Scusate Bellissimo Questa è Sam Questa per ogni peluche Che hai Penso tu l'abbia fatta Una foto di questo tipo È intramontabile Oddio Bluchi Questo perché Me l'hai scritto qui Inoltre ho trovato Anche questa cazzatina Che però Mi ha fatto pensare A te Le vuoi un sacco Ben Oh Bellino Grazie Ben Bellissimo Ma è troppo carino Ma guardalo Guarda Non le zampottine Minuscole Con le aliette Ah Potesse quello Il primo piano Ah ok 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 Va bene E Ah L'altro aneddoto È Ieri è stato Il mio secondo giorno No Di dottorato E io ora Sono in modalità Full immersion Cioè Cerco di svegliarmi Presto Arrivo lì Per primo Comunque tra i primi Non dico E pado via per ultimo Però insomma Rimango a lungo Al lavoro In realtà Secondo me Non faccio neanche Chissà cosa Cerco di lavorare Quelle 7 ore 36 Minime Che sarebbero Richieste Non so perché Questo numero Così particolare Ma va bene È anche un numero Secondo me Fin troppo onesto Figuriamoci Io cerco di farne 8 Se riesco Durante le giornate Però insomma Mi alzo Vado lì La mattina faccio Pausa pranzo Continuo pomeriggio Quando ho fatto Le mie più o meno 8 ore Stacco e torno a casa E cerco di non avere interruzioni Nel frattempo Salvo la pausa pranzo Ovviamente E questo sono io Gli altri ovviamente Fanno come se la sentono meglio Molti infatti Entrano più tardi E a volte escono Un po' più tardi A volte escono Un po' prima A volte escono Sempre prima Ma recuperano Durante il loro Durante il fine settimana Per i cazzi loro Come si organizzano meglio Però ieri Alle due e mezzo Li vedo Che si alzano Dalle loro postazioni In tre Prendono Un pallone E una rete E mi fanno Eh Alessio Wanna come join us E io Tipo Ok Che comunque Cazzo Un po' devo socializzare Devo conoscere Quelli con cui lavoro Quindi che è successo Che mi hanno portato Fuori Nel cortile Tra infinite virgolette Dell'università Che di fatto È uno sputo di terra verde In mezzo al campus Abbiamo messo Questa rete Questo Rete trampolino Ok Piccolino Tonda Di questa dimensione qua Ok Per terra Palla di gomma Divisi in due squadre Si è fatto La palla a volo Dei poveri Cioè Passo Passo Alla terza Schiaccia la palla Sul trampolino Sulla rete Deve toccarla Rimbalzare Poi l'altra squadra Passa 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 Chi sbaglia Fa fare punto Alla squadra avversaria E quindi Siamo stati Siamo stati lì Mezz'ora A cazzeggiare Fino a che io Non ho fatto Ma ragazzi Sarebbero le tre Non so se Però forse Bisognerebbe Tornare a lavorare Loro Ah eh sì Giusto È stato Incredibile È stato Incredibile Va bene Allora intanto Chiudo discord Schiaccia 7 Smesso di giocarci Perché ogni volta Alcuno si inventava Una nuova regola Prima di andare via Proprio mesi Sì un classico Va bene Per t più Io Non mi ricordo Ma qua Sì ok Va bene ragazzuoli Allora Noi ci vediamo Quindi lunedì Con la seconda parte Per ora Sono preso Bastanza Sembra Ci siano comunque All'inizio Era un pochino più Verso la prima mezz'ora Diciamo Poi invece Piano piano Sta facendo vedere Che c'ha delle ideine Che vuole farti vedere Il gioco Quindi niente Ci vediamo lunedì E qua è tutto Dal vostro catema E ricordate Stay determined E qui c'ha della mente